In diretta dagli studi di Fano TV, puntuali alle 7 del mattino, dal lunedì al sabato c'è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno. Ben ritrovati a tutti, cari telespettatori, benvenuti. Allora, partiamo dal santo di oggi, andiamo ad Osimo, nelle Marche, ovviamente per festeggiare San Giuseppe da Copertino, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, che nonostante le difficoltà affrontate durante la sua vita, ripulse per povertà, umiltà e carità verso i bisognosi di Dio. Il sole è sorto alle 6.50, tramonterà alle 19.14. Protezione civile delle Marche, questo è il sito che troverete su internet all'indirizzo regione.marche.it. Allora, cielo sereno, poco nuvoloso, ma residui rovesci, soprattutto in nottata, quindi possiamo dire che già questi rovesci se ne sono andati. un po' di vento, ma la giornata di domani invece sarà caratterizzata nel pomeriggio da locali rovesci o temporali nella fascia basso collinare, dal tardo pomeriggio fenomeni sparsi ed in estensione anche nella fascia collinare costiera, con esaurimento nella nottata di domani, quindi temporali, vedete anche sull'Anconetano in particolare, nel pomeriggio di domenica. Lunedì invece il tempo sarà decisamente migliore, con temperature però in diminuzione, ma insomma avremo qualche nuvola che caratterizzerà la giornata all'inizio della prossima settimana e poi per i prossimi giorni invece avremo debole instabilità fino alle soglie del prossimo fine settimana, quindi sarà una settimana così, un po' incerta, con qualche pioggia qua e là, ma insomma tutto sommato l'estate ormai è quasi, possiamo dire, ormai finita. Allora adesso invece andiamo a vedere i giornali. Green Pass, problema tamponi, questo è il titolo dell'edizione di Pesaro di oggi del Corriere Adriatico, come vedete Cigelle, Cisle, Wille, i sindacati vogliono che il Comune di Pesaro paghi i Green Pass ai dipendenti non vaccinati, qui si scrive immunizzati ma sarebbe bene scrivere vaccinati. Dalle piccole aziende sì alla carta verde, doppio siero, certificato valido un anno, dal pubblico al privato, dalle babysitter all'idraulico, tutti i soggetti coinvolti. A centro pagine invece la notizia della Fano Grosseto, verso le quattro corsie di marcia, sulla guinza sì di Anas alla seconda canna, poi il dato negativo delle marche quintultime per i vaccini agli studenti e in breve, con notizie che troverete all'interno del giornale, contenzioso tundo, i sindacati chiedono un tavolo in Regione, affano, rotatori a rischio, rabbia dei residenti al quartiere Trave e lo sport via la Supercoppa, la WL oggi a mezzogiorno ci prova con Venezia. La cronaca, baby gang due arresti denunciato un quattordicenne, pistola giocattolo e 30 grammi di marijuana appartengono a famiglie della Pesaro Bene, mentre folle di gelosia per le telefonate ora dovrà stare distante dalla sua ex fidanzata. Il Carlino di Pesaro invece, il vescovo, il vescovo è quello di Pesaro Coccia, ai catechisti vaccinatevi la direttiva di Monsignor Coccia per i collaboratori delle parrocchie, chi si rifiuta può essere sospeso. Il miracolo di Ludovica, la fotonotizia a centro pagina, malata di Covid, ha rischiato la vita per partorire, ora sta bene e poi da Monbaroccio fino alla Germania in bicicletta, il viaggio del sindaco per onorare il tedesco che salvò 300 ebrei, rifiutò di deportarli e li fece nascondere nel convento e il sindaco è il sindaco di Monbaroccio. Le altre notizie, donna travolta, seminuda in strada, mi hanno violentata in due, ma è giallo in via Rossi a Pesaro, ci sono dubbi sulla dichiarazione di questa donna, arriva la polizia in albergo, manette alla baby gang, coinvolto anche un tredicenne, poi Tavuglia in moto e poi Misano, con Valentino, il pieno di turisti. Il doctor ormai è quasi ai saluti. Poi il caso del DJ di Mondolfo, miocardite dopo il siero, ma era colpa di un virus, anche qui i titoli a volto sono forvianti, bisogna specificare bene, bisogna andare a leggere bene tra le righe un po' come sta la situazione. Ginnastica, che colpi, appesero due campionati, al via gli europei di aerobica, poi l'acrobatica, mentre le Final Eight, oggi è un oggi alle 12 a Caselecchio, quindi siamo in Emilia-Robagna, si apre la Supercoppa, VL contro Venezia. I contagi calano in tutta Italia, e allora a che serve il Green Pass, titolo del resto del calo di oggi? Qui c'è un'intervista di Luca Bolognini ad Agostino Miozzo, che ha 67 anni, il quale ha ricoperto l'incarico di coordinatore del CTS, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico, ed ex Consulente del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Allora, tra le varie cose che si discutono, di cui si parla in questo articolo, ecco, andiamo a leggere che cosa dice a proposito delle scuole, del ritorno a scuola. Molti vedono questo ritorno a scuola come un possibile problema anche per le condizioni climatiche, per tutto ciò che si vive all'interno delle aule, aule che spesso non sono state reate. Abbiamo avuto due anni per sistemare le aule e metterci dentro solo le marche, solo le marche sono riuscite a fare qualcosina rispetto al resto dell'Italia. In questi due anni hanno solo discusso, hanno solo parlato, hanno solo fatto cose senza correre ripari. Oggi, per il terzo anno consecutivo, siamo a parlare di aule che pur essendo strette non hanno ancora la reazione giusta. Bisogna tenere aperte le finestre fino ad ottobre, fino ai primi freddi, poi che Dio ce la mandi buona. In questi due anni non sono riusciti a mettere su degli impianti e dare azione come Dio comanda. E qui quindi questo è. Ma non è questione di fare politica, è questione di essere pragmatici nella vita. Le condizioni climatiche, nelle prossime settimane risponde appunto l'ex coordinatore del CTS, peggioreranno le condizioni climatiche. Smetteremo di vivere all'aria aperta, fattori che facilitano la circolazione del virus. Ora, basta solo riflettere un attimo e anche uno disattento rimane colpito da questa dichiarazione, ovvero smetteremo di vivere all'aria aperta, ok? Quindi vivere all'aria aperta, ovviamente cosa significa? Significa evitare di prendere il virus se uno vive all'aria aperta. Allora la domanda è perché abbiamo passato mesi e mesi chiusi come sorci, per dirla alla Burrioni, e ci avete fatto vivere chiusi come sorci? Se poi invece si legge che vivere all'aria aperta fa bene? Ma vabbè, una delle tante domande che probabilmente anche voi vi sarete posti, immagino. Poi, lei ha invocato il Green Pass anche per gli studenti over 12. Perché sarebbe importante? La risposta è per eliminare la didattica a distanza e il rischio, seppur basso per i giovani, di finire in ospedale e in terapia intensiva. Per gli under 12 invece il vaccino, secondo il professor Massimo Clementi, non serve. Clementi è il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e siccome le marche sono posizionate tra le ultime regioni in Italia nel target vaccinale che va dai 12 ai 19 anni, la Martina Angelica chiede che cosa ne pensa del vaccino a chi ha meno di 12 anni. E lui risponde, dice, ho letto che negli Stati Uniti Pfizer e Moderna stanno cercando di registrare il vaccino anche per i più piccoli sotto i 12 anni e lui dice questo forse è troppo e non credo serva. Forse, credo, ma non lo so, vedremo. Intanto andiamo e vediamo come butta e come va. Il vaccino per 12-19 anni non convince le marche sotto la media nazionale, quest'ultima nella classifica delle regioni, in maceratese il più indietro. Nella fascia fino a 15 anni sono in 20.000 senza una dose anti-Covid e poi anche qui si parla dei camper, degli open days per riuscire a raggiungere la popolazione più giovane. È un altro articolo che pubblica oggi il Corriere Adriatico dove ancora si possono snucciolare, ammesso che abbiate voglia di leggere tutte queste percentuali, ormai ci hanno rimbambito, non ci si capisce più niente. Comunque ci sono percentuali più, meno per cento che servono per fare una fotografia di quella che è la situazione. Intanto sul resto del carino di oggi un autista del 118 vaccinato con la seconda dose, è stato uno dei primissimi ad essere vaccinati, purtroppo non ce l'ha fatta, è morto di Covid, ucciso nove mesi dopo il vaccino, questo è il titolo dell'arresto del Carlino. A Ravenna il caso dell'autista del 118 stroncato a 61 anni riapre i dubbi sui tempi. Era stato tra i primi a ricevere il siero, nel dicembre scorso il suo ciclo vaccinale si era completato già nella seconda metà di gennaio, eppure il vaccino non è bastato a salvarlo dal virus. Giovedì sera dopo un paio di settimane in pneumologia all'ospedale di Ravenna, un aggravamento improvviso delle sue condizioni che sembravano stabili, l'ho portato via dall'affetto dei suoi cari. Le valutazioni scientifiche, parla Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, non c'è certezza su quale sia la soglia protettiva del siero. Quindi Brusaferro ribadisce un concetto che è già noto, che è questo, non c'è certezza su quale sia la soglia protettiva del siero. In rianimazione dopo il parto a causa del virus mi dissero che non mi dovevo vaccinare, qui siamo a Pesaro, la cronaca di Pesaro, la mamma di Mondolfo, è stata trasferita in subintensiva, dice lei ora sto meglio, ma ho vissuto momenti terribili e non sono mai stata contro il vaccino. La Iacomucci racconta quali sono stati appunto i momenti più difficili di questa ragazza di 29 anni, di Mondolfo, che qui pose in foto con Luciano Mucci, il dottor Mucci, e racconta di questa mamma di Mondolfo, 30 anni non ancora compiuti, che il 13 settembre è stata sottoposta ad un cesario d'urgenza a Pesaro per le complicazioni dovute all'infezione da Covid. Quell'intervento ha permesso alla piccola Amelia, che pesa 2,780 kg, di venire al mondo e alla giovane mamma di riprendersi da quella brutta polmonite che le aveva compromesso le capacità respiratorie. Sulla questione invece c'è un altro Mondolfese che è ricoverato in ospedale, il DJ che vi abbiamo anche presentato nei giorni scorsi, Alessandro Baldini, sulla miocardite il vaccino forse non c'entra, questo è il titolo. La scoperta dalle analisi sul DJ di Mondolfo non lo sapevo ma avevo un adenovirus che figura tra le cause. Ora sto meglio. Prima di intraprendere azioni legali voglio ancora andare a fondo. Dunque personalmente non so e forse non lo possono sapere fino in fondo neppure i medici, se l'infiammazione del cuore mi sarebbe venuta anche solo con la seconda dose del vaccino, ma certo è che questa scoperta cambia le cose. La mia volontà è vederci chiaro di approfondire al massimo la situazione, anche perché mi è stato ribadito che la mia risposta immunitaria è particolarmente elevata e forse era il caso che evitassi la seconda dose. Le parrocchie e la questione del Vescovo di Pesaro, Coccia, che dice invita i collaboratori a vaccinarsi. L'Arcivescovo fa proprio le direttive della CEI e riunisce il Consiglio dei Presbiteri. Padre Marzio, che tra l'altro ha avuto il Covid e è stato anche ricoverato in ospedale, responsabilità verso gli altri. Il sacerdote ha facoltà di sospendere chi non si vaccina, è una questione di obbedienza e fiducia. Chiudiamo la pagina, che è meglio, del vaccino, del Covid e andiamo a vedere invece le cose un po' più leggere, quelle che ci distendono un pochettino. Allora, sui pedali, per non dimenticare, Emanuele Petrucci, il sindaco di Monbaroccio, andrà in bicicletta, un po' in bicicletta e anche un po' in treno, ovviamente non sarà tutto in bicicletta, fino alla città tedesca. La leggete perché non riesco a pronunciarla. Viaggio della memoria, lo stesso che l'ufficiale Eric Heder, riconosciuto giusto, fece nel 1953 come voto. L'inizio è dal Beato Sante, quindi partirà da lì, lanciamo così la quarta edizione di Luce nel buio della Shoah, porterò la pergamena. Questa invece è la pagina di Fano, Fano fiorisce, ecco una buona notizia, Fano fiorisce anche senza Green Pass, accesso libero al tradizionale appuntamento al Pincio, da venerdì 24 domenica, circa 25 stand tra musica e laboratori per i bambini. Sicuramente passare una mezza giornata in mezzo ai fiori, sicuramente darà sollievo anche all'anima e allo spirito che ci vuole. Quindi accesso libero senza Green Pass alla mostra al mercato dei fiori, che è in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre. E quindi, ecco, questa è sicuramente una buona notizia. Poi delegati in missione a Gandia, o Gandia, un gemellaggio nel segno del gusto, questa è un'altra notizia che trovate sul carrile di oggi. Poi Urbino invece va in scena alla protesta del giovedì, senza di noi questa città è morta, la città è quella di Urbino, ripeto, rimostranze per l'ordinanza coprifuoco di Gambini che obbliga di fatto i locali a chiudere a mezzanotte. I locali in realtà hanno chiuso due ore prima, non c'è rispetto, dicono il sindaco Bollato come proibizionista sui social, gli operatori ribadiscono ha sbagliato tutti. Mentre Urbino dice addio alla delegazione della Lega Calcio di Lettanti, colpo per l'ambiente sportivo, la nuova presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio delle Marche ha sottratto la sede ad Urbino, ennesima sconfitta per il territorio. Poi Catria Nerone e Alpe della Luna, il raduno di chi invoca il parco. Ancora l'ultima cosa che voglio ricordarvi in questa rassegna stampa, siccome nel telegiornale abbiamo parlato ieri, ma poi il Comune di Pesero ha chiesto agli organizzatori di questa iniziativa che era in programma per domani al Parco Miralfiore, in realtà al mattino al Parco Miralfiore di Pesero c'è già un'altra iniziativa, quindi per non farle accavallare l'evento dal titolo Iventi del Cambiamento sarà al Campo di Marte di Baia Flaminia, quel grande parcheggione che si trova sulla Baia Flaminia, che tra l'altro credo sia anche più bello. Quali scenari ipotizziamo sul fronte medico, legale e politico nel breve medio e lungo periodo, difese nuove, sentenze e strategie? Quali germi stanno nascendo per un nuovo paradigma sociale, umano, abitativo e comunitario? Ora, Iventi del Cambiamento che vede i protagonisti domenica alle 15 al Campo di Marte, Sara Cugnal deputato, Domenico Mastrangelo medico, Diamante architetto e l'avvocato Edoardo Polacco e poi un concerto di Povia. Tutto questo organizzato dai cittadini liberi di Pesaro. Ovviamente non è una riunione novax, come probabilmente verrà bollata, ma è un incontro, una manifestazione che servirà soprattutto a coloro che vogliono continuare a ragionare, a riflettere, a indagare, a vedere, a capire come stanno andando le cose. Poi ognuno si farà ovviamente una sua opinione e resterà più o meno della sua idea, perché tanto ormai siamo già divisi e c'è poco da fare. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana, ci rivediamo lunedì mattina alle 7, come sempre con occhio ai giornali. Arrivederci.